E' il vero eroe di questo campionato, Paolo Ginestra, nato a Pergola nel 1979, 185 centimetri di altezza per 84 kg di peso. E' questo il suo identikit. Fra i pali Ginestra ha salvato un risultato che sarebbe stato decisamente peggiore dell'1-1 contro l'Attritium. Alle sue spalle anche un passato in B con il Parma nel 2008-2009, una presenza, zero gol. Nel lontano 2005-2006, 18 presenze nell'Albino Leppe e anche in questo caso zero gol. E' l'eroe solitario del campionato di Bonacina. Le sue parate e i tuffi si possono sintetizzare in pochi flash e tante grida dei tifosi, pronti a sostenere i satanelli, ovunque, anche a centinaia di chilometri di distanza. Per molti Paolo Ginestra è il campione di questa stagione.